eccoci cari amici di esperia tv ben arrivati a una nuova puntata di tutto molto bello eccoci qua collegati ancora una volta sul canale 18 del digitale terrestre in streaming su esperia.tv o direttamente sui nostri canali facebook o youtube andiamo in onda tutti i giorni alle 14 alle 22 30 e alle 8 del mattino vi ricordo che ormai esiste da tempo da quando siamo partiti con questa nuova avventura televisiva il nostro contatto telefonico per comunicarci argomenti importanti positivi da condividere con noi e magari da sottoporre i nostri amici che ormai ci seguono da casa e da tutto il mondo 351 874 3399 e a proposito di tutto il mondo oggi sarà una puntata dedicata all'extraterritorialità in pratica nella prima parte andremo in inghilterra adesso ci faremo dire esattamente la città dove il mio ospite da dove mio ospite collegato e poi andremo in francia a trovare una cara collega una donna di cultura un'artista davvero eccezionale e andremo direttamente a parigi ma per il momento parliamo di musica parliamo e non solo di musica devo dire la verità perché nell'ultima telefonata che ci siamo fatti mi ha dato una di quelle novità incredibili che che non mi aspettavo però insomma la vita è bella proprio perché è varia ci colleghiamo direttamente con l'inghilterra ad un'ora di macchina da liverpool perché questo non ricordo il mio amico sera fino ciao sera come stai bene ti trovo bene luigi anche io sei sempre sei sempre splendido hai perso i capelli rasta ma non perché ti siano caduti infatti lo stavo dicendo non perché ti siano caduti e perché per questo nuovo ruolo hai dovuto praticamente radere un attimo quella folta chioma che io adoravo da tempo insomma no ricordiamo che tu sei stato anche uno special guest in una delle tue canzoni in una delle tue canzoni grande rapper grande rapper senti ma io mi sono sempre domandato una vita ma quando andavi in giro per il mondo a fare i concerti e dovevi cantare quella canzone no ok ogni volta hai detto vabbè l'ho cantata con un collega ma la mia parte chi la faceva ero io registrato no dovevo imitarti quel tuo accento milanese eh vabbè ci appa lì fratello senti tu che sei cittadino del mondo da sempre per quei due o tre quattro forse anche cinque che non ti conoscono sera fino grande artista grande musicista che abbiamo frequentato insomma all'inizio di una carriera televisiva condivisa con il collega paolo giura e poi hai pensato bene di di portare la tua arte la tua voglia di fare la tua musicalità la tua tendenza la tua voglia di viva di vivere la tua follia che straordinaria che a me sempre a me è sempre piaciuta lo sai te la riconosco eh ne vorrei avere un decimo della tua della tua follia te ne sei andato in argentina sei scomparso per un periodo e da quelle parti hai ricominciato hai ricostruito praticamente il tuo percorso musicale facendoti condizionare da quella che la musicalità di quel paese sera fino si influenzare perché poi io ho sempre cercato di di interagire con altre culture musicali e cercare di fare un tra virgolette un prodotto musicale che abbracci diverse culture no e io sono andato per caso invitato una ventina di anni fa in argentina per un evento e poi ci sono ritornato dopo a distanza di 15 20 giorni e niente è stato un grande successo e ho deciso di rimanere lì e come base a buenos aires per poi sviluppare la la mia musica la diciamo la mia carriera musicale un po in tutto il territorio sudamericano sudamericano e appunto il termine che hai utilizzato tuo è quello più appropriato non condizionato ma influenzato e influenzato e sono volutamente e volutamente influenzato ma di questi periodi parlare di influenza è davvero pericoloso però insomma nel caso musicale è benvenuta insomma è una cosa positiva è un'influenza amica è un'influenza amica senti un percorso musicale straordinario e un'influenza che io ho condiviso perché insomma la tua musicalità è diventata ancora più brillante ancora più fammi passare il termine cacciarona ancora più diciamo ancora un po più complessa più energia più energia sì è vero è vero tantissima energia molto coinvolgente devo dire la verità le sonorità erano molto più molto più coinvolgenti senti prima di passare invece a tutto quello che è successo nell'ultimo periodo in pratica mi pare di capire dal 2019 barra inizio 2020 che ti ha portato da un'altra parte del pianeta però ti ha avvicinato un po di più a noi è perché insomma immaginare di venire a trovare in argentina era onestamente un po' complicato era un po complicato per una serie di motivi adesso invece sei in inghilterra e fra un po diremo diremo anche il perché ma nel frattempo ti voglio invece domandare il tuo coronavirus cioè con come è stato questo periodo straordinario che questo piccolo esserino malefico ha regalato a più di 5 6 miliardi di persone su questo pianeta diciamo che mi sono andato mi sono lasciato andare ad espressioni dialettali abbastanza pesanti nei confronti di questo esserino e tu calabrese sei quindi insomma che ha un po scombussolato la vita di tutti insomma oltre ai gravi danni ai lutti eccetera però veramente ha stravolto le nostre vite ed io niente sono qua da due mesi chiuso in casa grazie a dio un piccolo giardino quindi ogni tanto posso uscire qui hanno prolungato la chiusura quindi la quarantena fino al 2 di giugno fino al sì fino al 2 di giugno al 2 di giugno 2 di giugno sì e quindi ora io sto cercando di tornare in italia e farò 15 giorni di quarantena poi respirerò un po di aria nostrana finalmente allora io ti verrò a trovare dopo i 15 giorni naturalmente chiaro chiaro che senti la città che ti ospita adesso qual è si chiama bangor e in galles nel regno unito ma non in inghilterra in galles in galles vabbè sei un ora da liverpool e manchester siamo a un ora da liverpool e un ora un quarto da manchester in auto che meraviglia sono bei posti bei paesaggi se nel cuore della musica mi devo ancora e mi devo ancora abituare al freddo al clima è però adesso chi ti conosce e sono naturalmente in tanti si si domanderanno ma che cavolo ci fa li a fa 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 now fa now bangor bangor cosa cosa cavolo ci sta facendo dovete sapere che serafino ha messo sua famiglia un po di tempo fa e ha messo il mondo uno straordinario esserino di sesso maschile un bimbo meraviglioso che ha una dote calcistica di straordinaria grandezza certo non è pelè ma quando un pallone tra le gambe riesce a fare dei numeri straordinari e tuo figlio milita in questa squadra no del dallo scorso anno e a un certo punto mi ha coinvolto perché ha detto palla il club che ha 144 anni di storia beh mica non scherzo il club ha problemi seri a livelli economici eccetera eccetera rischia il fallimento cerca di fare qualcosa insomma messo insieme un pool di amici abbiamo salvato il club sono diventato presidente insomma qui mi vogliono bene e stiamo andando avanti per questo progetto sai coinvolto anche un'importante squadra italiana italiana e poi ne parliamo poi ne parliamo ma lo sai che in effetti hai assunto quella tipica espressione di presidente di squadra di calcio perché no aspetta aspetta ora te lo dico perché se eri il serafino di un po di tempo fa il collegamento al videoconferenza l'avresti fatto non seduto ma in piedi sulla sedia e invece adesso sei diventato suona nella chitarra e certo invece adesso sei diventato accomodante capito hai tagliato i capelli ma te li sei tenuti sì 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 mi raccomando sì 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 è una relicca no io te lo dico perché io la mia treccia lunghissima me la sono tenuta quando tagliai i capelli vent'anni fa quindi l'ho tenuta l'ho anche imbalsamata ma questi sono altri sono altri discorsi senti quindi l'amore per per tuo figlio e l'amore anche per come posso dire anche ripartire perché qui a tutto molto bello parliamo di cose che da un giorno all'altro ti possono veramente cambiare la vita un po te l'ha cambiata sera moltissimo perché ci sono pressioni differenti poi ci sono grosse responsabilità molta gente che lavora attorno a un club tra tra impiegati calciatori personale insomma sono grandi responsabilità e che ti cambiano la vita in effetti beh senti immagino la gioia di tuo figlio che finalmente ti può godere ti può vedere di più beh certo questo periodo insomma è anche complicato perché lui mi pare di capire che non è neanche in casa con te è in albergo con la scuola era in albergo e poi per non lasciarmi solo in casa è venuto ah ecco è venuto a stare qua che meraviglia che meraviglia ce lo saluti davvero con tanto con tanto affetto senti musica e sport lo sai cosa mi fanno ricordare tu quando eri ancora un folle scatenato e quando andassi a trovare il presidente dell'inter no ti ricordi che io feci quel il brano il disco con Roberto Baggio si esatto con Roberto Baggio questo filo questo filo tra musica e calcio c'è sempre stato e poi questo contatto diretto io non mi ricordo mi ricordo questa cosa con con la Moratti vero quella sorella del presidentissimo vero c'era anche lei partecipò in quel disco e dove c'era fra l'altro Baggio poi nel precedente invece con Franca Rame Claudio Bisio tutti quelli erano personaggi della Milano artistico milanese certo però hai ragione tu questo filo con con il calcio c'è sempre c'è sempre stato tra sempre contraddistinto ed evidentemente lo hai trasmesso in quella creatura che non hai partorito ma che hai dato alla luce hai contribuito naturalmente con il tuo sforzo ha fatto uno sforzo sto ragazzo ora ora non per dire senti siamo un po alle ultime battute gli ultimi due minuti per stare insieme non ti domando se ti manca la musica perché secondo me non ti può mancare tu sei un musicista io continuo continuo a comporre e a produrre musica questo io credo che musicisti si nasce e si muoia e dopo mille anni dopo mille anni si muore si muore musicisti senti però sai che faccio difficoltà ma proprio perché sono anch'io ti devo dire la verità però però tu lo sai come che tipo di rapporto io con il calcio sono ignorante non ci capisco niente non seguo le squadre non conosco i calciatori non con non so niente del mondo del calcio e partecipare a una trasmissione dove il calcio faceva appunto giustamente mi sembra mi sembra perfetto ma era quella capito la l'idea la forza era quella la forza far partecipare uno che non capiva niente di calcio ma tu pensa che io forse sono uno di quei pochi presentatori calabresi che ha avuto l'onore di presentare squadre di calcio di come la regina calcio come il catanzaro calcio non capisco non capisco una sola regola del gioco sì no non capisco perché chiami nome perché io sono sono lontanissimo però tutto questo preambolo per dirti che faccio difficoltà di immaginarti sulle tribune che salti come un pazzo gol sì e invece lo fai lo faccio sì sono abbastanza appassionale non riesco a stare freddo e impassibile anzi mi lascio trasportare troppo forse che meraviglia senti allora qualcuno senti allora il tuo futuro si divide tra un calcio al pallone e due note con la chitarra sì tra continuare a comporre musica e ogni volta che sento l'esigenza e poi continuare in questo progetto che lo trovo bellissimo che meraviglia guarda io sono sono felice perché in tutto molto bello abbiamo parlato di un'altra bella realtà anche se naturalmente nel galles però guarda caso riguarda dei calabresi due calabresi tu tuo figlio naturalmente la tua struttura la tua famiglia bellissimo sono veramente contento di questa cosa ci vediamo quando scendi è perché farai prima tu a scendere che io a salire te lo dico per una serie di motivi va bene anche perché i presidenti di calcio hanno gli sghe i presentatori hanno sta cippa cioè quindi la differenza la differenza è questa diciamo che chi fa televisione lavora per passione chi fa calcio lavora per i soldi questa è la verità no in questo caso lo faccio per passione lo so lo so lo so lo so tu sei uno di noi sera ti ringrazio ti abbraccio salutami tanto tuo figlio e viva la tua squadra in bocca al lupo per tutti i grandi e straordinari risultati va bene un abbraccio grande a tutti ciao ciao sera ciao 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 che meraviglia potersi collegare appunto con serafino per incredibilmente parlare di musica e parlare di di calcio e parlare naturalmente di sport tanti sono gli argomenti che trattiamo qui a tutto molto bello e rigorosamente raccontati con la gioia con la gioia che ci contraddistingue con la gioia che dobbiamo auto riconoscerci visto che insomma tra le tante disgrazie che questa pandemia ha portato e sta portando c'è anche quella psicologica molti di noi sparsi e in giro per il mondo stanno un attimo pagando anche un prezzo salato di un periodo di clausura costretto naturalmente e quindi non scelto di conseguenza e quindi insomma con problematiche davvero davvero importanti noi invece che siamo sempre comunque allegri per forza cioè malgrado tutto per noi è sempre tutto molto bello ce ne andiamo fino a parigi non c'entra niente con il discorso che stavamo facendo perché ci piace incontrare gente allegra gente che guarda al futuro con tutta l'energia di questo mondo e soprattutto visto anche il fatto che da poco tempo la mia dolcissima amica parigina è diventata mamma per la seconda volta eccola lì elisabetta ricci applausi brava brava ciao eli grazie della della dell'invito sono molto felice anch'io di 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 vederti so che stai bene i piccoli stanno bene ale sta bene insomma tutto sotto controllo malgrado tutto sì sì malgrado tutto innanzitutto come si chiama la bimba che mi dimentico sempre nicole nicole e vabbè nicole come fai a dimenticare una che si chiama nicole e invece il maschietto che appena arrivato si chiama ive 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 come ive monta ive monta qu'està che voleva rappresentare e lì senti tu sei a parigi una città bellissima strepitosa da dalmeno otto anni insomma vanno più hanno meno ma comunque dovrebbe essere questo e visto che noi siamo partiti anche con un giro abbastanza lungo largo per incontrare amici sparsi in giro per il mondo insomma a parigi mi viene in mente solo ed esclusivamente te no che tu che sei partita da questa terra è gloriosa con una associazione che ti ha ti ha rappresentato no prima prima del 2012 hai fatto davvero tante straordinarie iniziative iniziative con occhietti neri nella provincia di cosenza ma non solo poi a un certo punto naturalmente per guardarti un attimo intorno e per vedere le cose magari con un occhio completamente diverso con quello della gioia no nel fare le cose nelle fare nel fare le cose ed essere puntualmente e riconosciute perché questo poi che che ci voleva secondo me e sei andata a parigi allora come come avete vissuto questo questo periodo o ancora lo state vivendo e lì guarda non è semplice non è semplice abbandonare la propria terra perché si resta sempre legati alle proprie radici ma noi abbiamo io parlo anche insomma noi mio marito abbiamo intrapreso questo questo percorso conscientemente insomma sapendo tutto ciò che ci aspettava e devo dire che è stata una scelta che ha pagato una scelta che sicuramente rifaremmo ci siamo ben siamo ben integrati anzi non parlerei neanche di integrazione perché ci sentiamo ormai siamo alla pari voglio dire questo è bello di una città cosmopolita posso dire elio posso dire che ormai siete siete a casa insomma siete a casa sicuramente questa casa nostra indubbiamente poi è ovvio la calabria resta sempre nel cuore non può non possiamo dimenticare la calabria possiamo dimenticare le nostre famiglie non possiamo dimenticare i nostri amici sicuramente senti ma rappresenta rappresenta un pezzo un pezzo della nostra storia ma per noi è stato un ricostruirsi è stato come una rinascita in effetti nascere di nuovo e fare i primi passi in una terra sconosciuta benché insomma conoscessimo abbastanza bene la città però ripeto è stata una esperienza entusiasmante ci si pongono gli obiettivi è bello anche avere la come dire la forza e la tenace insomma di perseguirli ecco certo tu eri già da prima innamoratissima della città francese no non vorrei non vorrei ricordare male ma tu avevi avevi hai sicuramente un gruppo di amici sparsi in giro per il mondo non c'è credo paese o territorio che non sia rappresentato da un tuo da un tuo amico proprio per il lavoro che facevi con l'associazione ma anche per la tua struttura mentale particolarmente aperta senti e parigi insomma c'è arrivata dopo e le cose sono partite evidentemente con un po più di ritardo a un certo punto non lo so vorrei che mi raccontassi è stata più paura timore che cosa è successo arrivato a un certo punto è successo che tutti credo tutto il mondo ha guardato alla cina come una terra lontana quasi come se il virus fosse racchiuso nella nella nazione e poi in effetti la esatto si 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 è parlato di una vera e propria pandemia quindi noi abbiamo avuto uno sguardo su sull'esperienza italiana ed eravamo ben consci di quello che ci stava aspettando ma anche i franceschi lo sapevano benissimo che che era giusto questione di settimane di giorni per questa la la pandemia sarebbe arrivata anche qui per cui erano già erano già pronti erano già preparati non era nulla di nuovo quello che quello che è stato molto simpatico è stata la solidarietà che è stata mostrata comunque da dei francesi nel nei confronti degli degli italiani perché abbiamo avuto tante tanta tanta solidarietà anche da parte dei nostri amici da parte dei nostri conoscenti colleghi di lavoro su quello che insomma per quello che stava accadendo in italia alle nostre famiglie ma al nostro paese ecco poi è arrivata qui ma era una bomba d'orologeria prima o poi sarebbe arrivata non era nulla di nuovo ecco certo certo anche perché insomma malgrado tutto quello che si racconta del del covid 19 non è particolarmente pericoloso ma ha una potenzialità di trasmissione veramente incredibile cioè ti distrai un attimo ed è già lì che mangia che mangia e guadagna e guadagna chilometri malgrado ripeto non sia tra le cose più devastanti che questa terra fino a oggi abbia mai abbia mai provato senti e da un punto di vista diciamo sanitario e poi lavorativo come che cosa è successo come si sono diciamo consumate le cose lì a parigi ma dal punto di vista sanitario erano preparati per cui hanno hanno allestito hanno convertito tutti anche i reparti che erano destinati ad altre specialità della medicina quindi rinviato le operazioni non urgenti benché la cosa da sottolineare che hanno sempre chiamato al pubblico l'attenzione sul fatto di effettuare le visite di le consultazioni quindi presso i propri medici di come dire di di non perdere per il fatto del che ci fosse il virus di non perdere comunque il seguito delle proprie cure quindi questo questo bisogna dirlo sono stati molto attenti sono stati quindi è stato predisposto tutta una situazione tale da poter accogliere i malati ovviamente sono stati momenti anche anche sostenimenti drammatici come in italia non lo si può nascondere però penso che che lo abbiano affrontato bene il personale medico si è dato al massimo tutti si sono implicati anche potuto anche i privati scusami sul sul fronte dei dei numeri no che tipo di informazioni hai ad oggi della di parigi ma diciamo della francia della francia in generale ma sono in sbaglio in francia sono sui 27 7.000 morti di cui 10.000 ti parlo di cifre approssimative nelle case di riposo poi ovviamente si parla di cifre ma si parla anche di di persone quindi certo assolutamente molto in parte penso che la maggior parte dei francesi abbia misurato comunque il dramma di di queste cifre convertendoli in persone che comunque hanno perso la vita in persone che sono state contagiate gente insomma che che purtroppo è decedute altri invece che che ce l'hanno fatta uscirne però ecco il sistema sanitario è stato efficace nella nella messa in opera di di tutto ciò che poteva evitare il il contagio e facilitando anche i cittadini ecco l'accesso alle cure attraverso le teleconsultazioni teleconsultazioni che il nostro sistema sanitario ha preso in carico quindi è stato è stato se non c'erano scuse ecco per non per non curarsi soprattutto per le persone a rischio le persone fragili che non non potevano uscire che non potevano permettere certo senti parigi insomma come 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 roma come come firenze come come venezia una tra le città più visitate al mondo e quindi metto davanti a tutto oltre naturalmente il lavoro le industrie tutto quello che vuoi e il il turismo ma anche lì c'è un blocco totale o in effetti qualcosa è ripartita o come si stanno muovendo che tu sappia sì sì no no c'è stato un blocco c'è stato un blocco sicuramente catastrofico per per l'economia e si parla di crisi si parla di recessione certo i politici stanno attenti a quello che dicono però indubbiamente c'è stato un la città era come si può vedere dalle immagini la città era completamente deserta il turismo ovviamente non c'era turismo non c'è movimento i ristoranti sono chiusi però sono delle precauzioni sono state delle precauzioni necessarie che davvero sembra che abbiano dimezzato veramente il numero dei dei contagi la cosa positiva incoraggiante direi non so se è positiva perché comunque bisogna bisogna sempre fare attenzione sono molto cauta sembra che è lui agosto il nostro primo ministro abbia dato il via al turismo ma in francia quindi potremmo almeno fare delle delle vacanze in francia anche se ovviamente con le dovute precauzioni perché chiaro che che si resterà sul territorio nazionale credo 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 che le le lezioni saranno prese le lezioni turistiche saranno prese sicuramente ad assalto credo che a livello di di comunità europea credo che un po tutti i paesi comunque permettano praticamente magari un periodo di vacanze all'interno del proprio territorio all'interno del proprio stato proibendo assolutamente magari di raggiungere altri altri paesi almeno ad oggi almeno le informazioni che abbiamo che abbiamo oggi poi si vedrà tra luglio e agosto se magari ci potrà essere un'apertura magari comunque rimanendo nella comunità nei paesi della comunità europea se non altro almeno ci si potrà muovere sul 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 posto se ti è lì e in questi momenti da da donna da da lavoratrice da mamma insomma che cosa che quali erano i tuoi i tuoi pensieri perché poi alla fine cerchiamo di raccontare anche l'umanità no ci abbiamo messo in mezzo in questi mesi di clausura tutto quello che potevamo tutto quello che che siamo la la forza il coraggio la resistenza e cosa cosa pensavi ma è un periodo indubbiamente molto difficile molto triste sono uscita raramente ma veramente si conta proprio si contano il mio numero di uscite per motivi di salute visto che ero incinta e vedere la città come adesso mi ha messo davvero tanta tanta tristezza devo dire la verità una città gioiosa piena di vita di di gente di di una città felice ecco diciamo sinceramente mi ha messo molta angoscia poi dal mio punto il mio punto di vista era un punto di vista anche di una di una donna in attesa sicuramente molto preoccupata perché mettere al mondo un figlio in questa situazione non è proprio l'ideale ci si pongono già ci si pongono delle domande ci si pongono delle domande poi insomma con un bambino in arrivo è difficile le emozioni sono molto sono molto intense è difficile anche gestire le emozioni però devo dire che insomma siamo usciti tutti bene sono felice sono felice volevo proprio approfittare di questa occasione anche televisiva per poterti sentire vedere sapere che naturalmente stati tutti bene che il piccolo eve è arrivato è arrivato tra noi magari in un periodo non felicissimo per per il pianeta ma sono sicuro che quando sarà grande ci sarà qualcuno che li potrà raccontare che cosa è successo insomma nel 2020 quando veniva quando veniva alla luce e io ti ringrazio davvero tanto per averci dato testimonianza diretta della tua famiglia della tua città che adesso è naturalmente parigi ti faccio un in bocca al lupo ma è enorme nella speranza un giorno di poterti raggiungere lì a parigi e magari che tu possa fare il contrario qui in calabria speriamo io ringraziarti già di questa di questa bella occasione per ritrovarci e spero veramente di poterti incontrare perché no anche qui a parigi può essere un'occasione ecco di rivederci qui in città oppure su in calabria sicuramente ritornerò quindi perché no assolutamente ci organizzeremo non perdiamoci di vista e lì ti abbraccio abbracciami la tua famiglia anche alessandro e in bocca al lupo naturalmente per tutto va bene grazie 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 a te ciao 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 elisabetta ricci la nostra amica che ricordiamo sempre per aver curato davvero per tanto tempo l'associazione occhietti neri e noi a questo punto beh insomma siamo al termine di questa simpatica e altra fantastica puntata vi ricordo che ogni giorno siamo in onda su esperia canale 18 del digitale terrestre in calabria in diretta su esperia.tv quindi in streaming in diretta sui nostri canali facebook e youtube c'è il numero diretto del nostro programma per segnalarci qualcosa di interessante di importante da condividere con il nostro pubblico a casa 3 5 1 8 7 4 3 3 9 9 grazie a diego pistocchi che come ogni giorno come ogni puntata ha curato la regia televisiva i nostri amici della messa in onda crotone noi ci vediamo domani stessa ora stessa emittente e a questo punto ciao domani stessa in domani stessa in